Da novembre a marzo il gradimento del governo 55-50, cartello 8, il gradimento personale di Giorgia Meloni un po' peggio 58-51, che sta succedendo? Una flessione sempre normale, quando si inizia a governare ci sono delle questioni molto più complesse rispetto appunto a determinate cose state nelle campagne elettorali. Io quello che contesto alla Meloni è un assoluto appiattimento rispetto alla guerra in Ucraina su posizioni che sono contrarie proprio all'interesse nazionale, all'interesse europeo. Oggi in Senato ho detto due frasi, per me molto gravi. La prima, stiamo inviando armi all'Ucraina per tenere la guerra lontana da casa nostra. Lo stiamo facendo per non dover usare noi in futuro le armi. Per un anno ci hanno detto che inviare armi serviva per avvicinare la pace, costruire la pace giusta. Più armi inviamo, prima ci sarà il negoziato, così difendiamo gli ucraini. Oggi, che non possono più mentire dopo 13 mesi di questa narrazione bellicista, ripeto, pronato e contrario agli interessi italiani ed europei, la narrazione fa uno scatto in più. Cioè, ci vogliono far credere che, soltanto inviando armi, possiamo evitare un coinvolgimento diretto nostro, dunque dei nostri figli, in un eventuale conflitto allargato. Per me questa è manipolazione della pubblica opinione e soprattutto è una grave violazione dell'interesse nazionale. Altra cosa che ha detto oggi. Poerire la propaganda di chi racconta che l'Italia spende soldi per mandare armi all'Ucraina, levando soldi all'Italia, è falso. Stiamo mandando armi già in nostro possesso. Io non ho mai detto che inviando armi si taglia il sistema sanitario. Stiamo inviando armi in nostro possesso, è vero. Oggi, sul fatto quotidiano, il generale Bertolini, che è un ex generale della Folgore, attuale presidente dell'associazione paracadutista, candidato con Fratelli d'Italia in ultime elezioni europee, dunque un uomo legato a Fratelli d'Italia, non certo un bolshevico comunista, dice che lui è contrarissimo a inviare le armi. Il rischio è duplice. Gettare benzina sul fuoco inviando armi, fornendo armi ed energie ad un altro Stato impegnato in una guerra, che rischia di diventare una never-ending war come Afghanistan, e l'altro problema è sottrarre risorse preziose alla nostra difesa. Dunque, le armi che inviamo, dato che sottraiamo delle risorse preziose alla nostra difesa, evidentemente dovranno essere ricomprate. Dunque, quando la Meloni dice stiamo inviando soltanto delle armi che già sono a nostra disposizione, dunque non ci sono oneri maggiori per lo Stato, sta mentendo la pubblica opinione. Queste per me sono cose molto, molto gravi, soprattutto perché provengono da chi ha vinto le elezioni parlando di interesse nazionale, di sovranismo, di pacchia affinita, di schieda dritta, e finalmente l'Italia, la patria, Dio e la famiglia, che non si fa mettere i piedi in testa da nessuno. La Meloni qual è? È quella che dice viva Trump e viva il rispetto alla sovranità nazionale o quella che oggi si comporta purtroppo come scolaretta di Biden? Oggi pende dalle labbra di Biden, che era l'avversario di Trump. Qual è la Meloni? Qual è la Meloni? Prima il commentatore ha criticato legittimamente il reddito di cittadinanza, sostenendo appunto che fosse una cattiva misura. Legittimo, per l'amor di Dio. Però vi rendete conto che dopo sei mesi state criticando delle misure di altri governi che, piaccia o non piaccia, sono stati fatti il Movimento 5 Stelle, che ho criticato aspramente su mille questioni, tant'è che ne sono uscito, per non parlare anche di dichiarazione fatta o anche di alcune retromarcia che ha fatto. Comunque nei primi mesi di governo ha approvato il decreto dignità. Non vi piace? Legittimo. Però era in campagna elettorale, disse, parlavano di quella misura. La legge spazza corrotti, il reddito di cittadinanza, ha avviato l'iter sul taglio parlamentare, ha abolito, poi sono stati ripristinati, se ne può parlare i vitalizi, ha portato avanti un pezzo di programma. Non vi piace? Legittimo. Vorrei capire qual è il pezzo di programma portato avanti oggi sull'Europa contraddizioni, sul POS retromarcia, sull'immigrazione, scusate, oggi, grazie a Dio, la Meloni in Parlamento non ha citato la Wagner. La settimana scorsa stavamo qui parlando di dichiarazioni del Ministro degli Est e del Ministro della Difesa, due dei più importanti politici del governo, che accusavano Mosca di organizzare la bomba migratoria non potendo giustificare il fallimento sugli sbarchi triplicati. Oggi, grazie a Dio, non ne ha parlato. Guarda, guarda la destra.